Abbiamo più il Lugaiutice Vado? 3, 2, 1, GO! Lugaiutice Colpo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Ok. Grazie a tutti. 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 Vai, Luca. Grande. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, è buono. Vai. Vai. Buono. 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 Lu non molla non molliamo Lu vai sta andando bene vai si 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 vai lui vai lui grande bravo bravo Luca 48-49 eh 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 48-49 si sa te hai chopato ok ok ok